Da Palo del Colle a 2 miliardi di consumatori musulmani in tutto il mondo, grazie al rispetto delle regole di macellazione e halal, ovvero sia conformi al credo islamico. Un risultato che la Siciliani di Palo del Colle, azienda leader nel settore del trattamento carni, sta per raggiungere grazie alla certificazione da parte della Halal International Authority, l'organismo internazionale che si occupa di controllare le procedure di lavorazione del cibo destinato alle comunità islamiche. L'azienda ha ricevuto nelle sue strutture il direttore italiano della World Muslim League, che ha constatato la regolarità dello stabilimento. L'azienda siciliana è un'azienda leader nel settore carni, se la vediamo anche dal punto di vista della situazione geograficamente, è naturalmente esposta a un'altra parte a sud del Mediterraneo, pertanto sicuramente è un mercato molto interessante per il sud Italia e per il resto del Mediterraneo. Pertanto riteniamo questa visita odierna molto importante per il futuro della nostra azienda e soprattutto del sud Italia. Grande lavoro da parte dell'azienda, che vede l'allargamento del mercato al mondo islamico come un naturale sbocco delle aziende nel mezzogiorno. Con Siciliani abbiamo intrapreso un percorso da un certo periodo di tempo e oggi si può dire che la Siciliani è ormai matura per affrontare i mercati halal, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. A breve, insieme a una serie di interlocutori internazionali, promuoveremo i prodotti certificati, i prodotti all'interno dello stabilimento della Siciliani, i prodotti per l'area Nord Africa e nel giro di un anno arriveremo anche a livello di mercati asiatici. Grazie.